Il MISF, il Montecatini International Short Film Festival, sbarca al Festival di Venezia con la presentazione di un progetto speciale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la ricerca di nuovi linguaggi cinematografici. Un evento che lancia il conto alla rovescia per l'edizione 2021 della manifestazione cinematografica internazionale diretta da Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 23 al 28 ottobre. Il 10 settembre a Venezia, nel calendario degli eventi promossi dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, è previsto l'incontro storia e identità italiana nel cinema, guidato e coordinato dallo stesso Zeppi. Scopo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e della comunità di Montecatini, coinvolgendo gli studenti, innovando il linguaggio cinematografico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e codici espressivi e creando nel contempo una rete di imprese che possa creare ricadute occupazionali sul territorio. Molti di questi ragazzi, durante la pandemia, hanno girato il punto di vista e l'osservazione del proprio cellulare, passando da un meccanismo di pura fruizione ad una attenzione verso la città che li ospita e li custodisce. Quindi i ragazzi hanno cominciato a... un tema era registra la bellezza che incontri. I ragazzi parlano della loro città, parlano della vita che hanno intorno a loro, parlano della loro famiglia, del nonno, dello zio, parlano di loro stessi insieme ai loro amici. Ecco a Venezia, come saranno proiettati e come sarà organizzata questo evento? Abbiamo delle persone più esperte che hanno raccolto il lavoro dei ragazzi. Qui con noi stamattina ne presenteremo alcuni, diciamo, delle persone che stanno collaborando con il festival. La parte più professionale e più da educatori è stata quella di riprendere il lavoro dei ragazzi, trasformarlo in un documentario che è venuto abbastanza lungo e che dobbiamo far vedere in tutto il mondo, ovviamente cercando di fare un equilibrio tra lavori venuti bene, che saranno un po' più lunghi, e lavori venuti un po' meno bene, che però hanno ragione di essere dentro perché sono un documento storico della contemporaneità. Grazie.